Signori, posso chiedervi un favore? Certo, dica pure. Premetto che sono disposta a pagare un milione. Per fare che cosa? Sverginarmi. Sì, ma in culo. Denaro da una donna, mai. Sarà l'ultimo dei romantici, ma il culo di una donna no. Come si permette? Non vede che sono a lutto? Sì. 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 Sì.